La pietra Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro, non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E' risorto, non è qui, ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto.